La Svolta School mi ha dato più ordine e più tranquillità nell'affrontare i miei progetti che tante volte avevano idee ma ero un po' carente nell'implementazione quotidiana e pratica di questi progetti. Tramite la Svolta invece sono riuscita a rendere le azioni più costanti e più cadenzate e questo indubbiamente ti porta ad ottenere più velocemente risultati. Per cui sai che a un certo punto quando hai il casino nella giornata, nella settimana e così c'è un posto dove puoi andare e dove trovi delle persone che si fanno le domande che tendenzialmente ti fai tu. Un buon gruppo dei pari mi viene da dire.